Se da un lato nella città di Agropoli c'è un gruppo di genitori che è a favore del ritorno a scuola dei propri figli e si organizza per una raccolta firme finalizzata a mettere fine alla DAD, dall'altro ci sono famiglie che non sono d'accordo e preferiscono continuare con la didattica a distanza perché in questo momento delicato più sicura, organizzata ed efficace. Urge ribadire che è irresponsabile e incoerente riaprire le scuole. Inizia così il post di Tiziana Chirico sulla pagina Facebook. No alla riapertura delle scuole ad Agropoli, indirizzato al primo cittadino, Adamo Coppola, è irresponsabile perché non si può considerare il rischio di perdere ulteriori vite come danno minore rispetto ai pur rispettabilissimi disagi sociali e familiari. Incoerente perché nulla è cambiato rispetto ai mesi scorsi in termini di indice di positività, anzi ora ci troviamo anche in concomitanza col periodo di picco dell'influenza stagionale. Ormai gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ben organizzati, efficienti ed efficaci in ordine alla didattica a distanza. Risulta davvero incomprensibile capire e condividere le ragioni che inducono il governo e la regione a prevedere la didattica in presenza. Ora, qual è il danno così grave e irreparabile che si avrebbe nel continuare la didattica a distanza, fino a quando avremo, almeno per una parte significativa della popolazione, gli effetti benefici della campagna vaccinale che è ben evidenziare e iniziata soltanto da pochi giorni? Auspichiamo grande responsabilità e lucidità nelle scelte di queste ore. Questo è il documento del post, scritto sui social, indirizzato al sindaco Adamo Coppola.